Buongiorno a tutti, nel video dell'altro ieri abbiamo proseguito nella lettura di un passo del volume La riscossa scritto da Raffaele Cadorna Junior all'indomani della Seconda Guerra Mondiale un volume che, come abbiamo avuto modo di vedere in più occasioni, è un testo preziosissimo perché ci apre degli scenari anche inediti rispetto ad altre pubblicazioni non fosse altro perché Cadorna, in qualità di comandante del Corpo Volontario della Libertà riesce ad essere un attento e anche un equilibrato osservatore all'interno delle dinamiche anche contrapposte insite nel CLN Alta Italia ovviamente legati a un diverso approccio politico, partitico con determinate opportunità nei confronti della collaborazione con gli alleati dell'atteggiamento verso i tedeschi e verso i fascisti e in particolar modo verso la persona di Mussolini che come abbiamo avuto modo di leggere nelle ultime righe del brano dell'altro ieri emerge appunto la volontà di una sentenza immediata, di un voler chiudere i conti in maniera molto rapida con un, chiamiamolo il pretesto ma con l'opportunità giusta o sbagliata questo ovviamente sarebbe stata la storia, a valutare la cosa sul desiderio di giustiziare il prima possibile Mussolini onde evitare che potesse arrendersi agli alleati e quindi in qualche modo farla franca quindi questo era l'elemento che emergeva nelle ultime righe di quello che abbiamo letto l'altro ieri quindi prosegue Cadorna nella necessità di provvedere immediatamente nella impossibilità di prendere diretto contatto col CLN AI che non sedeva in permanenza, mi regolai come in ogni atto della mia vita di soldato domandandomi unicamente quale sarebbe stata l'eventualità più dannosa per l'Italia a prescindere da ogni mia personale preoccupazione avrebbe forse giovato all'Italia la cattura di Mussolini da parte degli alleati e il conseguente e spettacolare processo che sarebbe diventato fatalmente il processo alla politica italiana di oltre un ventennio nel momento in cui era necessario si facesse il silenzio su fatte e circostanze nei quali sarebbe stato estremamente difficile separare le responsabilità di un popolo da quelle di un capo e qui emerge l'altro problema quindi oltre all'eventuale impunità o quantomeno una sentenza più clemente rispetto a quella che poteva essere di fronte all'esecuzione capitale quella di mettere alla sbarra Mussolini e lo stesso Stato e in qualche modo probabilmente anche il sovrano non ne sarebbe uscito bene chi poteva presumere che dopo tanto discredito la sopravvivenza di Mussolini potesse ancora essere utile al paese ecco quindi l'altro elemento cioè Mussolini un po' come equilibratore all'interno di scenari potremmo dire post-apocalittici rispetto alla guerra civile quindi è sicuramente un'incognita quella di mantenere in vita Mussolini e lo riconosce lo stesso Catorna in nessun caso poi avrei volontariamente proceduto a effettuare la consiglia di Mussolini in mano alleata perché egli fosse giudicato e giustiziato dallo straniero ricordavo quale indignazione avesse testato all'interno e all'estero dopo l'8 settembre la voce che nelle clausole segrete dell'armistizio fosse prevista tale consegna da parte del governo italiano lo stesso Mussolini nella sua storia di un anno aveva ripetutamente dichiarato di essere deciso a darsi la morte piuttosto che cadere vivo in mano del nemico e se aveva cambiato proposito non sarebbe fuggito in direzione opposta a quella degli alleati avanzanti ai quali avrebbe potuto facilmente andare incontro davanti a un ordine la cui esecuzione non poteva comunque sfuggire alle mie competenze neppure al mio apprezzamento quale atto imposto da una ineluttabilità di forze e di eventi di cui è possibile farsi un'idea soltanto riportandosi a quei giorni e mettendosi al posto di chi si trovò in mezzo a quella situazione di estrema incertezza e di esasperata eccitazione io agì nei limiti di una precisa responsabilità a cui non intesi ne intendo sottrarmi la mattina del 28 si presentò al comando leovaliani recando l'ordine del CLNAI di giustiziare Mussolini rispondemmo che i due delegati comunisti si erano presentati con lo stesso ordine la sera prima dalla polemica che si accese dopo la liberazione risultò che il CLNAI non aveva deliberato in proposito e ne concludo che la decisione dovette essere presa dal comitato insurrezionale costituito dai tre partiti di sinistra la mattina del 29 Valerio si ripresentò al comando pallido e stravolto a ritorno della sua spedizione mentre con l'ucubre carico l'autocarro entrava in città era stato fermato presso la Pirelli da una formazione democristiana e per equivoco egli e Lampredi erano stati presi per fascisti e messi con le mani alzate contro il muro ora essi pretendevano la punizione dei colpevoli apprendemmo a cose finite il macabro episodio del piazzale Loreto il giorno seguente il CLNAI emanava un comunicato nel quale assumeva la piena responsabilità della fatta giustizia e deplorava gli eccessi commessi da una folla esagitata attribuendone la colpa alla diseducazione del ventennio fascista quindi in qualche modo si vuole giudicare, si vuole valutare come l'esasperazione, l'odio, il desiderio di vendetta nei confronti di Mussolini e di coloro che stavano insieme a Mussolini era dipesa essenzialmente da quella educazione alla violenza quell'educazione all'esasperazione quella violenza subita nei mesi dell'occupazione nazifascista che in qualche modo avevano eccitato oltre misura e oltre decoro potremmo dire la popolazione più minuta quindi è una sorta di miscela esplosiva tra una componente ideologica, politica e una componente invece passionale, emotiva, rancorosa della popolazione questa sorta di miscela produce appunto quello che sappiamo a piazzale Loreto alcuni giorni dopo mi resi conto dello stato d'animo della folla mentre all'imbocco dell'autostrada attendevo l'arrivo delle prime truppe americane chiese a un gruppo di donne se fossero contente della vittoriosa fine della resistenza virgolette sì, siamo contente ma lo hanno ammazzato troppo presto finisce il virgolettato mi disposero a una voce chi? domandai ed esse gridarono Mussolini bisognava prima portarlo in giro e coprirlo di sputi è questa la solita folla che alterna Losanna al Crucifige che tende ad attribuire a uno solo le proprie fortune o le proprie sciagure e chi la trascina e la esalta accarezzandone gli istinti ed eccitandone le passioni la vedrà delirare nell'ora del successo ma se la ritroverà inesorabile e spietata nel disastro non poteva essere diversamente per Mussolini che forse come nessuno aveva goduto il favore delle masse a cui aveva dato promesse e chiesto rinunzie senza fine non è da dimenticare che egli aveva prolungato e aggravato le sofferenze e le umiliazioni della sconfitta con gli orrori della guerra civile che solleva gli odi più profondi e le violenze più paurose quindi sostanzialmente il giudizio che secondo me ha le sue validità nel senso che la popolazione affamata, la popolazione sconvolta, la popolazione sofferente la popolazione piegata da ogni difficoltà, da ogni sacrificio della guerra era stata ancora più brutalizzata nei suoi più istinti animaleschi potremmo dire anche della guerra civile quindi in qualche modo è un giudizio che trovo comprensibile anche se probabilmente non sempre giustificabile ovviamente però diciamo che è comprensibile di fronte a una realtà così straordinaria così al di fuori di ogni contesto in cui l'elemento della vita e della morte era talmente quotidiana la brutalizzazione e la violenza era divenuta una cosa comune, visibile, palpabile tant'è che poi alla fine si rivolta contro anche nei confronti di chi in qualche modo aveva fino a poco prima ottenuto grandi consensi speravo di passare tranquillo la notte sul 28 ma verso la mezzanotte venne avvertito dell'arrivo di un ufficiale americano il tenente D'Addario che proveniente dalla Svizzera era giunto a Milano in modo qualquanto avventuroso di passaggio a Como aveva accettato la resa del maresciallo Graziani e dei generali Bonomi e Sorrentino ponendoli così sotto la protezione dell'alto comando alleato si era messo in viaggio con una colonna di sei macchine provviste di bandiere bianche alleate italiane il che non impedì che giunto in via Dante laddove era stata la caserma della Muti e ora stava di presidio una brigata Garibaldi fossero accolti da una nutrita raffica di mitragliatori le macchine furono bucherellate ma cosa miracolosa nessuno colpito D'Addario con le tre macchine in testa aveva proseguito ma era poi stato arrestato dalle sentinelle tedesche che sbarravano la strada all'altezza dell'hotel Regina non sapendo che cos'altro fare aveva chiesto ospitalità ai tedeschi e di là aveva telefonato al nostro comando originale situazione di guerra questa è l'ironia e anche la contraddizione di quelle ore di fine guerra io spedì subito all'hotel Regina il capitano Greppi e Valerio e Valerio presso la formazione Garibaldina col compio di recuperare le tre macchine che erano state catturate dai partigiani poco dopo mi vidi arrivare un simpatico giovanottone che parlava correntemente l'italiano pareva alquanto urtato per la cruda accoglienza fatta gli dai Garibaldini in via Dante lo tranquillizzai spiegando che in quello stato di tensione i mitragliatori sparavano da soli che con tutti i distintivi di comandante generale per poco non subivo la stessa sorte il giorno precedente all'angolo di via Manzoni con via Bigli per mano di un gruppo di partigiani dell'ottava Matteotti che non mi voleva dare il passo che in ogni modo era lieto di vederlo con la pelle intatta mi raccontò del maresciallo Graziani e del geniale Bonomi che avrebbe portati con sé all'hotel Milano e mi pregò di prendere in consegna il generale Sorrentino ci lasciamo all'alba buonissimi amici con reciproca promessa di collaborazione 28 aprile la situazione è tuttora incerta gli alleati sono giunti grosso modo sulla linea Adda Po alcune punte corazzate sono spinte lungo la pedemontana Bergamo-Como grosse colonne tedesche e fasciste urtano e sfiorano le formazioni partigiane creando frizioni e combattimenti locali talvolta sembrano dirette su Milano il che provoca continue richieste di aiuto in città la situazione risulta essere la seguente non esistono più centri di resistenza fascisti sono ancora efficienti i sei gruppi di fabbricati fortificati occupati da tedeschi le forze disponibili ed efficienti si riducono a un migliaio di uomini dell'Oltrepoppavese e della divisione Valtoce e qualche centinaio delle brigate Lorenzini, Michele e Mattei sono annunziate in arrivo le formazioni in Valsesia e dell'Ossola poiché le trattative col comando di piazza tedesco tirano in lungo ordino al tenente colonnello Beolchini di procedere di forza contro qualche caposaldo tedesco in modo da indurre anche gli altri la resa nella giornata con semplice schieramento di mezzi e conseguenze ultimatum viene determinata la resa della caserma aeronautica di piazza Italo Balbo e della casa dello studente, sebbene il comando tedesco della città avesse ripetutamente ordinato di non arrendersi in serata erano state schierate le forze di visione Valtoce per attaccare i fabbricati di via Brescia ma l'operazione viene sospesa perché nel frattempo si erano riprese le trattative col colonnello Rauf ricordo di essere ricato in piazza Brescia e di avere accompagnato dal comandante Rino Pacchetti passato in rivista il reparto della Valtoce erano bei soldati, dallo sguardo fiero, ben inquadrati e disciplinati ebbi un momento di commozione e quasi ebbi rimpianto di non indossare un uniforme 29 aprile, in mattinata ero venuto a cercarmi da Dario ma segnalava che l'hotel Milano era circondato da partigiani della formazione Ottava Matteotti i quali avevano sottoposto il maresciallo Graziani a continue minacce di morte introducendosi nella sua stanza con le armi puntate mi pregava di provvedere con lui a trasportare il prigioniero in luogo più sicuro era assolutamente necessario che un prigioniero degli alleati venisse rispettato più tardi mi si racconterà che Pertini aveva dato ordine ai partigiani di far fuori il maresciallo far fuori tra virgolette prendo Stucchi e Mosna, entrambi del Partito Socialista e li invito a venire con me per fare opera di persuasione sui partigiani dell'ottava Matteotti chissà quando in Parlamento tempo dopo siederanno sia Pertini che Graziani mi immagino quali possono essere gli incontri tra i vari contesti parlamentari beh, chissà raggiungiamo il Milano dove trovo il maresciallo che protesta contro il trattamento fattogli dichiara di voler essere giudicato da un regolare tribunale di guerra lo prego di vestirsi e decido di accompagnarla alle carceri di San Vittore l'unico luogo che dia qualche garanzia di sicurezza le macchine chissà è curioso che San Vittore che i mesi precedenti diciamo che mandavano a San Vittore non è che si sapeva la sicurezza di uscirne quindi Graziani non so quanto potesse essere contento di questa cosa le macchine attendono davanti alla porta dell'albergo tra queste una lunga alfa che era stata del maresciallo nella quale si trovavano alcune armi alcune armi e alquante munizioni e bombe a mano mentre scendiamo nell'entrata si sente un forte scoppio seguito dal crepitio delle detonazioni la macchina ha preso fuoco e le munizioni scoppiano non so se risponde a verità la versione data poi dal maresciallo Graziani che lo scoppio fosse stato provocado da una bomba posta intenzionalmente nella vettura per farlo saltare in aria anziché da fatto incidentale come io avevo ritenuto chissà se è così sempre le varie probabilmente è il quello spirito di persecuzione che Graziani aveva già da un bel po' dall'epoca di Addis Abeba ma ancora prima nel senso di che era sempre ossessionata da attentati nelle sue persone ma magari in queste circostanze era vero come magari era vero a suo tempo non so se risponde a verità ok se così fu l'indugio nella stanza fu giovevole non solo al maresciallo ma anche a me che dovevo prendere posto nella stessa vettura passano al quanti minuti in quell'atmosfera una satura di elettricità prima che un'altra vettura sia pronta finalmente ci incamminiamo in mezzo a due ali di folla ostile davanti a noi un partigiano procede in motocicletta a passo d'uomo e grida qui c'è Graziani il traditore della patria come Dio volle giungemmo a San Vittore ma il carcere è presidiato da carcerieri ex prigionieri politici è curioso che gli ex prigionieri diventano carcerieri e il carcerato è Graziani l'accoglienza fatta ai prigionieri non fu delle migliori a fatica li spingemmo dietro la saracinesca nella sala del controllo la scena è pietosa il carcere pretende l'umiliante spogliazione intervengo per affrettare questa funzione finalmente il maresciallo è chiuso dentro una cella a mezzogiorno incontro Monsignor Bicchierai da cui apprendo che il maresciallo lo ha richiesto per conforti religiosi e convinto che durante la notte verrà trucidato ma nel pomeriggio dello stesso giorno giunge da Bergamo il maggiore americano Fisk il quale mi chiede la consegna dei prigionieri lo accompagna a San Vittore ove i carcerieri ex carcerati sono sostituiti da anziani miti carabinieri così Graziani poter lasciare San Vittore ed evitare il peggio nel pomeriggio decidemmo con D'Addario di riprendere le trattative col generale Wenning comandante delle truppe tedesche in Italia e con il clorello Raus del SS il discorso dei miti carabinieri probabilmente questi carabinieri forse non erano pienamente a conoscenza che lo stesso Graziani aveva favorito la deportazione dei loro colleghi nell'ottobre del 43 però erano anziani e miti carabinieri diciamo che non avevano tutta quella verva di vendetta che potevano avere altri ci ricevettero in un salone del primo piano all'hotel Regina avevano il solito aspetto cerimonosamente corretto degli ufficiali tedeschi e anche la loro inflessibile concezione del dovere assistetti a un monotono duello oratorio D'Addario spiegava che nella disperata situazione della Germania era assurdo continuare l'inutile strage che io aggiungevo e io aggiungevo che avevamo mezzi sufficienti per costringerli con la forza la resa anche prima dell'arrivo degli alleati quindi anche a risposta di quelli che dicono che senza gli alleati non si faceva niente gli alleati ovviamente hanno dato il contributo maggiore nella guerra di liberazione ma in questa circostanza arrivarono sostanzialmente a cose fatte al che i tedeschi rispondevano che si rendevano benissimo conto della situazione disperata ma che l'ufficiale germanico di sua iniziativa dà l'ordine dell'attacco non quello della resa era quindi necessario fossero autorizzati per iscritto dal generale Wolf dopo lunga monotona discussione si finì per concordare che noi ci saremmo astenuti dall'attaccare i centri di Milano se i tedeschi avessero ordinato alle colonne in ritirata di arrestare le operazioni in attesa di arrendersi agli alleati non avevamo un quadro preciso della situazione ma ci giungevano notizie di forti colonne ancora armate e ben organizzate che dal Piemonte e dal Piacentino ripiegavano sulla Lombardia ci conveniva di arrestarle in qualche modo per dar tempo agli alleati di tagliar loro la via di scampo qualora i partigiani non avessero potuto averne ragione a Novara la situazione sembrava particolarmente pericolosa disponendo i tedeschi di parecchi carri armati prendemmo con noi un colonnello tedesco e condottrono alla sede della Edison che aveva un filo telefonico diretto tutt'ora efficiente lo persuademmo di impartire al comandante tedesco di Novara l'ordine di sospendere ogni operazione mi verrebbe quasi quasi l'idea di continuare nei prossimi giorni con la fine della lotta un altro capitolo che appunto ci porta a ma chissà vediamo un po' non lo so ci penso un pochettino magari se vi piace potremmo continuare con questa lettura di grande intensità di grande trasporto di grande efficacia nell'andare con un certo rigore anche etico passatemi il termine nell'analisi dei fatti delle posizioni delle variegate posizioni che possono esserci state appunto negli animi nei sentimenti nelle emotività nelle sensibilità all'interno ovviamente della compagine antifascista ma anche della compagine più ampia della guerra di liberazione perché appunto ovviamente il delegato alleato ha un suo obiettivo ha una sua una sua missione che in parte diverge da quella che esiste appunto negli animi degli italiani e negli animi dei comandi politici e militari del CLN a Alta Italia ovviamente e anche di quelle prettamente militari a capo dei quali appunto è lo stesso Cadorna beh mi sembra che abbiamo avuto modo di capire bene anche la cattura di Graziani questo momento di Graziani ci offre veramente un elemento secondo me di grande di grande interesse che sicuramente poi solliticherà anche l'animo del buon Metal Mike detto questo come al solito invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao